Buongiorno a tutti, sono felice di farvi questa lezione anche se sono dispiaciuto di non avervi tutti davanti. Io mi chiamo Alberto Piazza e ho insegnato genetica nell'Università di Torino, ma anche in altre università, soprattutto a Stanford, dove ho lavorato soprattutto sulla evoluzione dell'uomo. La genetica della longevità, il titolo che abbiamo dato a questa lezione, è un argomento molto interessante e anche molto affascinante, perché in realtà non si sa moltissimo. Qualcune cose oggi si conoscono meglio di anni fa, ma occorre cercare di orizzontarsi su una letteratura che è vasta, ma che è anche un po' dispersiva, nel senso che affronta vari problemi legati ovviamente alla longevità. Io ho parlato, il titolo è genetica della longevità. In realtà oggi si sta facciando allo studio non solo della longevità, ma di tanti altri aspetti della genetica, un nuovo capitolo o sottocapitolo della genetica che prende il nome di epigenetica, nel senso che si sta sempre più affermando l'idea che le sequenze di DNA, le quali noi colleghiamo l'espressione genetica, in realtà non ci dicono tutto su quella che è l'evoluzione, ma c'è fattori ambientali, fattori della vita, fattori dell'educazione, che in qualche modo possono modificare alcuni aspetti della trasmissione genetica. Ma questo è un altro tema, ve lo voglio solo accennare, perché oggi la genetica in qualche modo sta espandendo le sue capacità di analisi. Prima di tutto voglio però darvi alcune nozioni, dati di riferimento sulla longevità. La prima data è che l'esame di quanto a lungo siamo vissuti nei vari tempi, le statistiche non sono ovviamente rigorose e chiare, soprattutto quando si parla dell'antica Roma, se l'antica Roma ci sono alcune dati interessanti dagli scritti, diciamo, storici sull'antica Roma, ma l'attesa di vita che è poi la misura in qualche modo che ci dice quanto ci aspettiamo di vivere, a quell'età era di 22 anni, pensate, 22 anni. Nel 1900 non è che sia salita moltissimo questa attesa di vita, questa speranza di vita, si definisce anche perché da 22 sale a 49. Sono gli ultimi anni, in realtà, dal 1970 ad oggi, che oggi non è più 2000, ma siamo su 2020, anzi in 2021, che la speranza di vita sta aumentando, ma non sta aumentando in maniera uniforme in tutte le nazioni, in tutti gli stati, in tutte le popolazioni, ma ha delle storie che possono essere diverse da popolazione a popolazione. Io qui ho tratto dalla bibliografia che è associata a ciascuna di queste diapositive un'analisi abbastanza recente di quello che è successo, qui andiamo fino al 2001, ma questa diapositiva vuole sottolineare che l'aumento dell'aspettativa o speranza di vita dopo 65 anni è un fenomeno relativamente recente. Voi vedete da queste curve, che in qualche modo fanno vedere la speranza di vita nelle donne e negli uomini, subisce una divaricazione e una salita, una crescita, in realtà, negli ultimi, diciamo dal 1900, dal dopoguerra, dal dopo la seconda guerra mondiale ad oggi. Non è ovviamente una crescita di tanti anni, ma è una crescita che c'è, molto probabilmente dovuta all'ambiente, all'igiene, a tanti fattori che non siamo in grado di elencare in maniera dettagliata, ma che certamente hanno influenzato. La cosa importante però è che è rimasta costante fino, diciamo, alla prima guerra mondiale, tanto per dare una data, ma poi si è elevata dal 50-60 ad oggi in maniera abbastanza pronunciata. Nella diapositiva successiva quello che voglio fare vedere è che questa speranza di vita alla nascita, perché la speranza di vita si misura in diverse fasi della vita di un individuo. Quella alla nascita è chiaramente quella maggiore di tutti, ma la speranza di vita per una persona che ha 60-70 anni è chiaramente minore di quella che ha alla nascita. Qui c'è in rosso, vedete, al centro quella che è l'attesa di vita alla nascita che è di circa 80 anni facendo una media di tutte le popolazioni che sono elencate nella ascissa di questa tabella e voi vedete che la salita, cioè perché in bianco voi vedete nel 1970, nel nero invece quello che è nel 2017, ci sono 50 anni di differenza e quello che ci aspettiamo è che cresca. Cresce in realtà in molti paesi, molti stati, in molte nazioni, ma in alcune non cresce per niente. e quello che voglio farvi sottolinearvi è che nella quart'ultima posizione c'è la Russia, la federazione russa, la quale in realtà, intanto è 72 anni, perciò 74 anni scusate, e perciò, no 72, 73 in realtà, ma non è salita di come ci aspettavamo il che è un fattore che preoccupa naturalmente non solo la federazione russa, ma anche la situazione igienico-sanitaria, probabilmente non lo sappiamo esattamente, di questa federazione. L'Italia occupa, lo vedete, alla vostra sinistra, la quarta posizione. In Italia, come è noto, l'attesa, la speranza di vita è una delle maggiori di tutte. Prima dell'Italia c'è il Giappone, la Svizzera, la Spagna, e subito dopo l'Italia. La Spagna adesso, in questo ultimo periodo, probabilmente sta un po' scendendo, ma non lo sappiamo in maniera esatta, non voglio darvi delle nozioni che non sono più che rigorose. Questa slide, questa diapositiva, dimostra l'età mediana per regioni del mondo. Cosa vuol dire mediana? Il concetto di mediana è diverso dal concetto di media. Se io faccio tra due, tre e sei, tre numeri, la media è diversa dalla mediana, la quale è definita dal fatto che ci sono tante unità, maggiori quante unità minori. Tra due, tre e sei, la mediana è tre, ma la media tra due, tre e sei, non è tre, ma è sei più tre, che fa nove, più due, undici, e cinque virgola cinque. Il concetto di mediana e di media si usano in maniera indifferente, perché si dice che la mediana, soprattutto quando è presa, ma anche la media, su tanti numeri, è più robusta, nel senso che subisce meno le oscillazioni che qualsiasi misura statistica hanno e che sono misurate da quello che viene chiamato errore. Ma l'interesse di questa diapositiva è che gli europei, nella proiezione, i demografi fanno queste proiezioni su anni lontani, 2030 non è poi così lontano da noi, l'Europa, sicuramente, l'Europa ha la maggiore età mediana, perciò nell'Europa avremo una proporzione di individui, diciamo, con una speranza di vita che sarà la maggiore di tutti, probabilmente, ma che saranno anche più vecchi con tutti i problemi che la vecchiaia, l'anzialità può indurre sui fattori politici, sui fattori sociali, sui fattori di occupazione, cioè ne sappiamo qualcosa oggi che in un periodo di pandemia i posti di lavoro in qualche modo si perdono, ma oltre che a perdersi, il problema grande è che devono avere un cambiamento e la regia di questo cambiamento non è facile. Il problema qui, il punto, è che di tutte le popolazioni che stanno attorno al Mediterraneo, ma anche nel mondo, includendo l'America, l'Europa sarà la popolazione più vecchia. I demografi sono abbastanza precisi in questo tipo di proiezioni, cioè sbagliano, sì come tutti, ma non sbagliano di molto. L'Italia. Beh, l'Italia, vi espongo a quelli che sono i numeri recenti del 2019, qui avete una serie di numeri che in realtà ci interessano, ti interessano perché descrivono la demografia della popolazione italiana, ma quello che ci interessa sono le ultime due righe in cui alla nascita la speranza di vita è di 83-84 anni e all'età di 65 anni l'attesa, la speranza di vita è di 21 anni, cioè oltre 65, ce ne sono, forse uno a 65 anni, ha una speranza di vita media di circa 20-25 anni. Ogni anno poi, dal momento che abbiamo per nostra fortuna con tutti i problemi che ci porta un sistema sanitario nazionale, è probabile ed è possibile che aumenti poi, e perciò può fare felici molte persone, ma il sistema diciamo ha delle problemi di spesa che non sono indifferenti. Per quel che riguarda l'Italia, la Spagna, il Portogallo, la Grecia, cioè paesi che noi chiamiamo del sud e del Mediterraneo, c'è come è noto una differenza tra l'Europa che voi vedete e che è l'ultimo euro e l'Italia. L'Italia è sicuramente quello che ha la maggiore attesa speranza di vita di questi oggi, almeno oggi, alla lascita. Però qui sono combinati sia il sesso baschile sia il sesso femminile il che è una, come dire, è una media naturalmente però è una imprecisione nel senso che c'è una differenza e la differenza credo che sia esposta nella diapositiva successiva nel quale voi vedete l'andamento della speranza di vita alla nascita nel femmine e nei maschi e quelle ombreggiature che voi vedete dal 2025 e poi in realtà dal momento che il 2025 cominciano le previsioni mentre invece prima delle previsioni ci sono dati reali 2025 in realtà c'è un errore e quell'errore è in qualche modo delimitato da quella fascia che è rosa per il sesso femminile e azzurro per il sesso maschile. Si sovrappongono. Quando due fasce di errore si sovrappongono vuol dire che non esiste una differenza significativa tra i due ma non esiste semplicemente perché la previsione in sé ha un errore che noi dobbiamo considerare. Nella diapositiva successiva affrontiamo a questo punto il problema della ereditabilità della vita umana la lunghezza della vita umana la vita è sempre ereditabile ma la lunghezza non è detto che sia ereditabile nessuno ce l'ha mai dimostrato in maniera chiarissima nel passato oggi si ha qualche notizia in più e quello che volevo mostrarvi è il primo studio sulla familiarità della longevità che è del 1900 vorrei vedere bene 34 questa fu la prima pubblicazione che ha documentato che i parenti dei novantenni e dei centinarie vivono più a lungo dei parenti degli individui che hanno meno anni meno longevi questa osservazione è stata poi confermata più rigorosamente da tutta la letteratura successiva ma da quest'anno nasce questo tipo di rilevazione di constatazione che siamo qui per sviluppare con voi e come la sviluppiamo beh la prima cosa che dobbiamo dire è capire se è ereditabile o no perché nessuno ci dice questa è stata la prima pubblicazione ma poi le pubblicazioni successive che cosa ci dicono esiste una stima che si chiama in genetica quantitativa si chiama ereditabile si ereditabilità che è usata soprattutto per i caratteri quantitativi quali sono i caratteri quantitativi per esempio l'altezza è un carattere quantitativo perché si misura con la bilancia scusate con un metro mentre invece il peso si misura con una bilancia e non è facile dare un'idea se questi dati quantitativi sono ereditabili o no ma c'è una tecnica non precisissima che stabilisce andando soprattutto a vedere le differenze tra i gemelli ma anche tra parenti diciamo padre figlio parenti di ogni tipo di ogni grado che stabilisce con un certo errore l'ereditabilità se l'ereditabilità è del 100% significa che il carattere è pienamente ereditabile tutte le malattie che sono in qualche modo determinate da un gene da pochissimi geni sono ereditabili per definizione perché c'è una trasmissione familiare qui la trasmissione familiare di un carattere come l'altezza come il peso non è facilissimo determinare perché ci sono altri fattori che lo determinano la dieta per esempio l'educazione il fatto se la popolazione è più prodotta interno l'ordos è più o meno ricca sicuramente anche questo e facendo tutti i conti almeno la letteratura che poi dopo è stata poi in qualche modo è cessata perché abbiamo oltre oggi sistemi più moderni per stabilire se un carattere se il carattere della longevità è ereditabile o no ma tutte le stime si convergono verso un quinto al quindici al trenta per cento cosa significa questo quindici trenta per cento significa che c'è un insieme di fattori ereditari che contano per circa il trenta per cento della variabilità il restante settanta per cento è dovuto a altri fattori che non sono ereditari c'è stata una discussione su questo quoziente di ereditabilità vivacissima soprattutto quando si è cercato di stabilire l'ereditabilità dell'intelligenza pensate un po' è ereditabile oppure non è ereditabile l'intelligenza tanto bisogna definire cos'è l'intelligenza non è semplice e poi l'ereditabilità è stata usata sia da quelli che sostenevano che l'intelligenza è ereditabile sia da quelli che invece sostenevano che era una stupidaggine andare a valutare i quozienti ma non mi diffonde su questo perché questo è un altro problema interessante ma che non è il caso di affrontare tutte le specie hanno longevità che chiamiamole così eccezionali cioè che sono di fuori del range comune delle specie noi vediamo l'uomo il massimo diciamo di longevità umano è stato raggiunto da Jean Calment 122 anni e 165 giorni ma anche le altre specie quelle non umane diciamo hanno la loro longevità eccezionale topi 4 anni 4 anni per un topo i cani 29 anni i gatti 34 i gatti sono più longevi dei cani pesci rossi 49 cavalli 62 elefanti 78 tartarughe 193 e le balene sono quelli che almeno a quello che si sa sono quelle più longevi per cui il problema di una longevità che va un po' al di fuori dei limiti diciamo chiamiamoli così del non normali perché dire normali in questo caso è difficile ma che hanno fuori della mediana della media dei libiti massimo e minimo sono qui rappresentati l'altro problema che è stato subito non dico affrontato ma comunque almeno descritto è se esiste o non esiste un limite per la lunghezza cioè questi 123 anni costituiscono un limite cioè non si può andare al di sopra dei 123 anni per l'uomo oppure in realtà i progressi diciamo tecnologici di farmaci e di salute sostanza sono tali che noi possiamo continuamente stendere questo limite questo è uno dei problemi che in realtà non ha avuto una soluzione definitiva ma l'idea ormai così della maggioranza degli studiosi di questo problema è che ci sia un limite e che questo limite per l'uomo sia diciamo attorno ai 120 130 anni ma poi in realtà sono numeri che non si riescono a stabilire con precisione dipendono moltissimo da quei fattori non tanto genetici ma come accennavo prima epigenetici che non dipendono in maniera diretta dalle sequenze del DNA ma da come queste sequenze si possono esprimere e l'espressione di queste sequenze dipende a sua volta in sostanza dall'ambiente oggi molto discusso anche questo in cui uno ed anche della trasmissione abbiamo un esempio proprio in quest'anno di come vengono dagli animali trasmessi alle altre specie e particolare la specie umana i virus che sono una popolazione resistentissima vivacissima e di cui si parla proprio in questi giorni e mesi è cresciuta dal 1900 questo è già stato detto ma insomma la sopravvivenza dopo i cent'anni rapidamente diminuisce perciò già lì c'è un indizio che forse un limite ci deve essere perché altrimenti sia la curva rossa che la curva blu che denota i due sia il senso maschile che il senso femminile dovrebbero in qualche modo continuare o perlomeno non decrescere in maniera così ripida e rapida molto si è parlato e ve ne accendo perché è rilevante in questo in questa discussione che facciamo insieme sono quelli che vengono oggi chiamati genomi su misura e sono soprattutto invocati quando si parla di terapia genica qui siamo soprattutto nelle patologie genetiche in senso stretto cioè quelle che si chiamano anche malattie patologie monogeniche cioè che dipendono da un gene solo l'anemia falciforme è un classico esempio e il problema è di capire se cambiando la mutazione che produce che genera che causa la malattia in realtà la malattia si possa o non si possa curare questo procedimento è chiamato di terapia genica e fino diciamo a un anno o due anni fa in realtà non ha mai funzionato in maniera decisiva e vi dico subito anche perché perché uno dice ma come io in fondo posso cercare di sostituire un gene con quel gene diciamo che dà la patologia causa la patologia con uno invece che non la causa perché li conosciamo conosciamo sia il gene che si chiama di solito gene mutante che quello che causa la patologia sia quello cosiddetto normale e allora se noi sostituissimo il gene normale al gene che causa la patologia in realtà la malattia nelle generazioni successive almeno non dovrebbe più generarsi però non funziona o perlomeno funziona ma con molte limitazioni voglio spiegarvi perché voglio spiegarvi in maniera molto rapida e sintetica come oggi si è cercato e probabilmente si riuscirà a fare della terapia genica difficile ma che possibile cosa vuol dire analizzare una patologia genetica primo individuare il difetto genetico secondo cercare di capire come funziona il gene normale e come funziona il gene che invece si esprime in qualche modo tutte le funzioni del gene e qui gioca un ruolo l'epigenetica che ho definito in maniera abbastanza approssimativa ma che sta avendo oggi una influenza notevole su tutti gli studi di genetica e poi la costruzione di modelli animali e perciò di sperimentazione di patologie simile negli animali per poter sperimentare prima negli animali e successivamente nell'uomo la e cosa dobbiamo fare in teoria qui c'è una una siringa che inietta un gene sana ma insomma però detta messa così sembra una cosa quasi banale ma non è affatto banale e perché non è affatto banale cerco di spiegarla se posso ma perché noi dobbiamo qui c'è il gene normale chiamato G e la mutazione da G a A quello che può provocare la patologia qui c'è scritto anche un 12 se vedete il gene mutante perché quel 12 individua il cromosoma in cui è situato quel gene cosa si fa di solito beh si cerca di tagliare il gene dove esiste la mutazione che dà la patologia e inserire in questo dove esiste questo taglio che sono due taglie perché lo dobbiamo a valle a monte del gene tagliare la sequenza e con un procedimento che si chiama ricombinazione omologa ma in questo caso non ci soffermiamo sui termini di sostituire il gene A col gene G detto così sembra una cosa banale banale non lo è di certo perché noi dobbiamo e la diapositiva successiva lo dimostra infettare in qualche modo oggi parla la parola infezione volta di boda ma voglio dire infettare cosa vuol dire vuol dire trasferire il gene non mutato dove nella circolazione di solito sanguigna ma non si sottuisce mai in realtà quello che si è sempre fatto fino a ora è aggiungerlo cioè prendere un vettore si usa cioè che potrebbe essere anche un virus o qualcosa del genere e cercare di iniettandolo diciamo nella circolazione dell'individuo che ha la patologia sperando che questo vada proprio a sostituire il gene normale cioè sostituire gene mutante con quello sano però quello che si fa e si è fatto in realtà fino a oggi è che noi iniettiamo in molteplici coppie che in qualche modo si integrano in tutte dal genoma cioè nell'insieme dei geni della persona affetta in contesto diverso da quello originale questa operazione che in qualche caso è successo in qualche altro caso purtroppo no ha un problema gravissimo e qual è il problema gravissimo un problema diciamo importante questo gene abbiamo fatto finta che sia sul coposoba 12 quando noi lo iniettiamo il gene chiamiamolo così normale per dare un nome anche se la denominazione è un po' approssimativa e noi di solito lo 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 facciamo con quello che vi chiamate un vettore retrovirale cioè in pratica iniettiamo un virus con questo vettore e numerose coppie di questo gene diciamo trasferite vengono inserite nella nostra circolazione sanguigna dove noi riteniamo che debba essere trasferita ebbene quello che succede e qui c'è la fotografia la diapositiva lo dimostra quello che succede che cos'è è che in realtà può trasferirsi in cromosomi diverso dal 12 anche il 12 per carità non è che il 12 poveretto è quello che deve essere sostituito però può andare a finire in altri cromosomi e noi non sappiamo esattamente qual è l'effetto di questo trasferimento non sul cromosoma 12 ma su altri cromosomi molto spesso quello che purtroppo succede che questo trasferimento attiva dei processi di moltiplicazione che porto possono portare a tumori ed è questo uno dei problemi per il quale la terapia genica che è molto stata concettualmente evidente che è la terapia che noi vorremmo applicare in realtà è molto difficile da applicare fino a quando? fino a qualche un anno fa qualche anno fa è stata inventata questa tecnologia da due francesi Jennifer Doudna e Emanuele Charpentier che è quella che in realtà ha inventato la tecnica la cui realizzazione è valsa il premio Nobel nel 2020 che si chiama CRISPR e che in qualche modo è un sistema per identificare in maniera esatta il cromosoma e il locus dentro il cromosoma che in cui c'è la mutazione di tagliare in questo sito il il gene che è mutato e di sostituirlo è una tecnica tra l'altro come sempre le cose più interessanti più importanti risultano poi da idee e tecniche semplici però in realtà bisogna averle bisogna avere la fantasia e questo in realtà non aggiungono il gene sano senza riparare quello mutato ma in realtà sono esattissime dell'individuare quello che si chiama il target cioè il bersaglio della mutazione perciò è stata un'invenzione che sta già avendo interessantissime applicazioni e che si spera le abbiano in maniera sempre più sviluppate perciò si può riparare in situ si dice il gene mutante in situ vuol dire esattamente nel posto del cromosoma 12 e non negli altri cromosomi e allora la regolazione della longevità c'è sicuramente un ruolo dell'epigenetica cosa vuol dire ruolo dell'epigenetica vuol dire che le le sequenze del DNA non bastano da solo a spiegarci un fenomeno come questo ma basta pensare lo dico sempre lo dicevo sempre quando i miei studenti che il numero dei geni dell'uomo e il numero di geni nel topo sono assolutamente identici circa 35.000 20 dipende insomma ma ora non è possibile che insomma l'espressione di questi geni nell'uomo e nel topo che sono due specie diciamo abbastanza distanti nel tempo e producano effetti così diversi e in realtà quello che li diversifica oggi si sconosce bene meglio la materia non è tanto il numero dei geni quanto il modo con cui i geni si esprimono e cioè in parole un po' povere ma che vi danno l'idea nel numero di connessione che nel cervello hanno tra di loro i neuroni quello che è differente nell'uomo e nel topo che questo numero è molte volte più di mille volte superiore nell'uomo rispetto al topo e che poi l'educazione cioè l'epigenetica eccetera tende anche a modificarli cioè una persona più istruita semplifico molto mi scusate questo è certamente attiva dei circuiti neuronali che molto probabilmente non lo sappiamo sono diversi e in qualche modo esprimono cose diverse da quelle del topo il topo non ci parla perciò non conosciamo il suo linguaggio in più poveretto nelle sue esperimentazioni che facciamo non firma un consenso informato come l'uomo ovviamente non sappiamo i circuiti neuronali esattamente come si situano ma quello che è certo che i circuiti neuronali dell'uomo individuano percorsi molto molto diversi e molto e molto differenziati questo lo sappiamo perché invecchiamo beh qui il numero delle teorie si sprecano ce ne sono io sono andato a fare una piccola rassegna che non vi espongo perché secondo me poi dopo è inutile sapere 30 teorie sull'invecchiamento di cui sicuramente volte sono sbagliate e però almeno una distinzione di queste teorie si possono fare la prima sono meccanismi genetici casuali esistono delle mutazioni queste mutazioni in qualche modo producono o non producono una vecchiaia una longevità maggiore o minore è chiaro una cosa che l'invecchiamento favorisce la specie perché sostituisce poi individui di età avanzate con nuove generazioni per cui c'è un rinnovamento della specie però un rinnovamento lentissimo se noi dobbiamo in qualche modo misurare questa velocità della speranza di vita negli ultimi 30 40 50 anni andando ricorrendo alla generazione che una dopo l'altra esiste una sostituzione dal momento che appunto la longevità è molto alta e il ritmo delle generazioni dell'uomo almeno è di circa 20 30 anni per cui lenta anche quella è difficile formulare una teoria dell'invecchiamento che predica questo invecchiamento così rapido in termini evolutivi perciò c'è molto problemi su questo e sui meccanismi genetici casuali di mutazione certamente esistono delle mutazioni che sono associati alla longevità nel 2019 che è l'ultima rassegna che ho consultato sono espressi 56 loci genetici cioè punti del genoma che sono significativamente associate alla longevità e 55 funzioni e qui stiamo parlando di funzione perciò di espressione del gene che delle proteine che sono sintetizzati da questi geni per cui c'è certamente una influenza genetica non c'è dubbio su questo però studiare 56 loci che in realtà probabilmente sono molto di più è complesso è complesso poi andare a vedere a che cosa questi loci 56 che 56 è un numero esatto ma oggi probabilmente sarà già decina in più non lo so però è difficile poi esprimere diciamo ma certamente la sequenza da sola in cui questi geni sono posti perché i loci incendenti sono posti in una sequenza non è sufficiente a spiegare questo fenomeno e se non è sufficiente cosa dobbiamo fare ma qui ci sono alcuni geni che sono stati trovati questi sono la poe è uno di quelli che ha un significato interessante e sono significativi voi vedete qui vedete in basso in rosso e nero tutti i tutti i loci in realtà i nucleotidi uno per uno che sono quelli che in qualche modo vi individuano l'analisi e voi vedete tutti quei puntini che sono al di fuori diciamo della folla di puntini che voi vedete nella riga più bassa subito dopo il rosso e il nero beh quelli sono significativi perché li trovate in maniera specifica in persone che abbiano una certa età e perciò lo primo studio che viene in mente da fare in una situazione di questo tipo è lo studio dei cosiddetti centenari cioè lo studio delle persone che hanno e qui c'è però questo risultato vecchio alla quale nessuno aveva mai tanto meditato e che è interessante voi vedete questa figura cosa sono sono è una figura che ci dice per l'età della persona il tempo che la persona stessa ci ha messo per fare da 30 anni a 70 anni stessa persona la variazione che uno ha nel tempo in cui percorre una gara una maratona e voi vedete che c'è una variabilità importante e questa variabilità deve essere in qualche modo spiegata è ovvio che prima quando uno ha dieci anni vedete la prima dieci dieci anni questo questo tempo diminuisce e diminuisce in maniera drastica solo sicuro qui c'è la genetica non credo che conti i miei nipoti impiegano a fare mille metri in un tempo sicuramente molto minore di quello che impiegherei io e va bene così ma vedete la curva non è una curva tanto regolare vedete che fino ai trent'anni uno insomma corre la maratona in maniera diminuendo il tempo di percorrenza dopodiché incomincia a crescere ma incomincia a crescere in maniera abbastanza lineare fino ai settant'anni vedete fino ai settant'anni e poi da settanta a novanta con oscillazioni di espressione che sono molto importanti e perciò è venuta un po' l'idea è che la ricerca non dovrebbe tanto svilupparsi all'interno di popolazioni di individui diversi ma all'interno di individui perciò medicina personalizzata si chiama oggi al fin che si possa all'interno dell'individuo cercare di capire se questo grafico è uguale negli individui che vivono 120 anni diciamo invece negli individui che per loro vicende malattie eccetera e questo è importante cioè l'orizzonte oggi è sempre la medicina personalizzata qui abbiamo una medicina personalizzata nei confronti della sopravvivenza e dell'età della persona perciò longevità eccezionale studio dei centenari e studio anche di coloro che in qualche modo arrivano a una certa età in realtà sani senza malattie che sono le malattie oggi più più frequenti diciamo almeno nel mondo nell'Europa sicuramente cioè malattie cardiovascolari tumori e quelli che tutti noi conosciamo bene allora la teoria più che è venuta fuori non la teoria ma la constatazione che è venuta fuori in maniera che è più interessante forse forse è quella che è espressa da queste curve queste curve che sono vedete sei curve che sono suddivise per malattie diciamo che causa spesso di mortalità cancro malattie CVD cardiovascolari demenza senile in particolare alzheimer htn vuol dire malattie di huntington e osteoporosi e la guinta è quella in fondo e il colpo è quello che il infarto diciamo cerebrale è l'ultima e voi vedete la curva in cui in sostanza sorge o perlomeno si manifesta la malattia negli individui chiamiamoli di controllo cioè non i centenari non quelli che hanno e invece nelle malattie le persone che hanno meno di cento anni ma da cento a cento e quattro in colori diversi li vedete che sono poi curve crescenti cioè quella con cento dieci più anni che è quella azzurra e in tutte le diapositive le figure quella più alta cioè cosa vuol dire più alta cioè quella che non hanno praticamente malattie o perlomeno e questa salute eccezionale e questa idea hanno dato luogo a quella che è venuta chiamata l'ipotesi della compressione cioè che in questi individui le malattie si comprimono e si manifestano diciamo il più tardi possibile dico così per dare e cioè si manifestano non come negli individui diciamo nella media chiamiamolo così di controllo ma molto molto lontano nel tempo perché beh difficile da dire in maniera molto generale ma più facile da dire se la abbiamo due teorie in qualche modo che possiamo formulare a questo proposito la prima è che l'invecchiamento correla con l'esaurimento delle capacità rigenerative nella maggior parte di organi e tessuti che però è diversa in certi individui cioè questa capacità rigenerativa è una capacità che nel tempo ipotesi della compressione si potrebbe in qualche modo come dire rimandare mi esprime con questo termine un po' da dilettante ma rimandare a tempi migliori e perciò a un'età maggiore non è per tutti così per molte persone si manifesta in tempi diversi perciò qui c'è un fattore che è sicuramente un fattore epigenetico che in qualche modo mi dice va bene tutti in qualche modo poi possiamo morire di una patologia che però questa patologia può svilupparsi più tardi e perché si sviluppa più tardi questo è difficile oggi da capire non basta l'altra teoria o perlomeno l'altra ipotesi è più precisa o perlomeno individua nelle malattie degenerative e su volte di queste si individua anche in maniera sperimentale che sono dovute ad una le cellule post mitotico cioè dopo la mitosi che è quella che moltiplica il numero delle cellule con una perdita cioè ogni duplicazione di mitotiche cioè che sono prodotte dalla suddivisione delle cellule e dalla loro moltiplicazione queste alcune di queste cellule si perdono cioè c'è un processo in pratica di invecchiamento della cellula allora la prima sono organi qui invece sono cellule ora non è poi facile capire bene la differenza perché la perdita è recuperabile di cellule post mitotiche poi può danneggiare gli organi per cui in realtà c'è poi un legame però l'indirizzo diciamo delle ricerche è un indirizzo diverso è un indirizzo che cerca di analizzare modelli diversi e perciò mi avvio alla conclusione di questa mia cosa facendomi esplendomi quelle che io ritengo ma non solo io che sono le cinque condizioni di degenerazione che molto probabilmente sono dovute alla perdita di cellule dopo la mitosi cioè di cellule che si moltiplicano malattie delle cardiomiopatie e infarti sicuramente 15 milioni di persone nel mondo hanno malattie di questo tipo e sicuramente qui ci sono perdite di cellule dopo la mitosi neuroni demenza alzheimer parkinson diabete degenerazione della retina e degenerazione sordità sostanzialmente presbiacusia perdita dell'udito perdita dell'udito perdita della vista diabete cioè sostanzialmente un dismetabolismo malattie di parkinson e alzheimer e malattie cardiovascolari su queste cinque grosse classi perché poi all'interno di ciascuno ci sono classificazioni diverse è molto probabile che ci siano delle perdite di cellule dopo la mitosi non lo sappiamo in maniera chiara però ci sono molti lavori su questo aspetto e rimane l'altra ipotesi invece evolutiva che è quella dell'organo che in qualche modo si che poi non è non è non è moderna ma in realtà è è antica antica nel senso che se vogliamo ricordare un po' di classici Eschilo nel Prometeo incatenato no diceva non so l'invecchiamento non lo diceva con queste parole ovvio correla con l'eserimento di una capacità rigenerativa che ha luogo negli organi nei tessuti non tanto dalle cellule come è l'altra ipotesi diciamo quando i tessuti in diversi tempi diversi dopo la nascita cioè non è un fenomeno che avviene in persone anziane ma è un fenomeno che avviene gradualmente ricordiamoci quello cosa dice Eschilo del Prometeo incatenato e da allora l'acquila fulva di sangue qui c'è proprio una immagine che è un'immagine molto molto pertinente cane alato di Zeus divorerà il tuo corpo in cui pascersi ogni giorno nella nera imbandigione del tuo fegato è l'organo che viene divorato ma che in realtà è chiaro che è l'acquila che lo divora ma né sperare né sperare un termine a tale supplizia perciò qui ricreiamo per congiungere due culture cultura umanistica e cultura scientifica il fatto che in realtà l'una e l'altra contribuiscono a darci un'immagine della longevità non solo un'immagine in senso come dire di me che vi sto parlando ma anche nelle pitture qui vi faccio vedere il Prometeo incatenato è l'aquila che divora il fegato in un dipinto bellissimo a Philadelphia di Rubens e invece di una scultura che troverete quando si riopriranno le frontiere ma si può vedere così in una scultura a Louvre in cui c'è Prometeo che ora che poi Prometeo sia stato punito perché ha usato troppo questo è una come dire è un'immagine del mito in realtà tutti i miti poi hanno una origine che in qualche modo va alla persona e va alla evoluzione della persona in questo caso non tanto più delle popolazioni quanto più di una medicina di una terapia che va a concentrarsi sull'individuo e sulla riparazione eventuale dei geni o più che dei geni dell'espressione dei geni di questo individuo io mi auguro che soltanto aperto ad ogni domanda ad ogni discussione potete rivolgervi all'Accademia delle Scienze per eventuali domande o comunque avremo occasione di vederci e di rivederci nella vi indico una bibliografia una solo una bibliografia nelle diapositive che voi potete vedervi rivedervi ci sono i singoli riferimenti questa però è un articolo recente che parla proprio della regolazione genetica ed epigenetica dell'invecchiamento e della longevità che sono due termini che indicano quasi la stessa cosa ma che in realtà sono quelle che oggi abbiano un grandissimo interesse non solo sotto il profilo della ricerca scientifica ma anche sotto diversi profili che di scientifico magari non hanno molto e di comunicazione forse invece hanno molte e questo spero che sia per voi un contributo vi ringrazio anche se non vi vedo ma vi vedrò sicuramente o vi sentirò con piacere grazie grazie